Ben incontrati cari amici, buon venerdì 11 ottobre. Oggi ricorre la memoria di un santo molto amato dalla Chiesa contemporanea, San Giovanni XXIII, il Papa che ha dato avvio al Concilio Vaticano II. Allora lo si chiamava il Papa Buono per la sua amabilità, per la sua figura sorridente e accattivante. E noi leggeremo invece, sempre dal Vangelo di Luca, un brano piuttosto lungo dove Gesù stranamente è presentato come esorcista, che libera dal potere di Satana. Iniziamo l'incontro con la preghiera allo Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, vieni e visita il mio cuore, apri il mio cuore all'incontro amoroso con Dio. Ponemi alla scuola di Gesù, con Lui io possa pregare, con Lui io possa contemplare, con Lui io possa amare, con Lui io possa dire Padre, Padre nostro, Padre di tutti gli uomini. Amen. Ascoltiamo. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero, è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse, ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano, per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice, ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono di mora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Non si può negare che sia un testo, quello che abbiamo ascoltato, un po' complicato. E non sono in grado, per la mancanza di tempo, di spiegare tutti i particolari di questo Vangelo. Quello che possiamo dire, in sintesi, sono alcuni pensieri. Il primo è questo. Una delle azioni di Gesù è quella di liberare le persone dalla possessione demoniaca, di vincere la presenza del demonio nelle persone da lui dominate, controllate, abitate. E per Gesù questo è uno dei segni più grandi della liberazione e della misericordia di Dio verso gli uomini. Li libera dentro, non solo da un male fisico, da un male psichico, ma anche da un male spirituale, dalla presenza del demonio. Ora, proprio questa azione per cui Gesù dice è arrivato potentemente il dito di Dio, cioè la forza di Dio in mezzo in mezzo a voi, proprio questo che Gesù compie e fa è motivo di discussione tra i giudei, tra i capi dei giudei. E dicono, fa questo in nome del principe dei demoni. E Gesù pazientemente cerca di farli ragionare. Ma come, dice? Il demonio non può essere contro se stesso. E poi, i vostri esorcisti, sanno in forza di che cosa si può liberare una persona dal demonio con la preghiera e con il digiuno. In terzo luogo, devo dirvi questo, dovete prendere atto che qui è arrivato uno che ha più potere del potere del demonio, perché porta con sé il potere di Dio, che vince il potere del male. Ma ovviamente, se uno non vuole ascoltare, non ascolta. E se non è libero di ascoltare cordialmente, si oppone con ottusità di mente e di cuore. E però Gesù aggiunge, attenzione, non basta essere liberati una volta per tutte dal demonio, perché il demonio è insidioso e può tornare all'assalto. ed è proprio questo ultimo pensiero di Gesù che mi fa pensare così. Occorre che anch'io abbia attenzione su di me, perché non sono liberato dal male una volta per sempre. Difatti Gesù, una delle raccomandazioni che fa i suoi amici è la vigilanza. Vigilare su se stessi per non lasciare che il male entri in noi, domini e prenda possesso della nostra vita. Quindi, liberati dal male, però vigilanti sul male, che può nuovamente assalire la nostra vita, la nostra interiorità, la nostra sensibilità e esperienza spirituale e di Dio. E con questo ancora una volta chiediamo che il Signore ci benedica, cioè faccia di noi persone in grado di ospitare il bene che è Gesù, la sua parola, il suo spirito, la sua potenza di amore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani. Grazie a tutti.